Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Protagonista di oggi posso definirlo un collega, visto che è un editore. James Gordon Bennett, senior, nato nel 1795 e morto nel 1872, morto a New York, città il cui nome è anche parte della fortuna di James Gordon Bennett. Infatti James Gordon Bennett è il fondatore del New York Herald, fondato nel 1865. James Gordon Bennett incarna a tutti gli effetti quell'ideale classico di self-made man americano, l'uomo che si è fatto da sé, anche se proveniva da una famiglia piuttosto facoltosa, ha deciso di intraprendere una carriera imprenditoriale partendo da zero e essenzialmente senza soldi e grazie al suo duro lavoro, come è anche parte dell'immaginario della costruzione del self-made man americano di stile classico, di stampo classico, gente anche loro stessa stampata nella roccia con una determinazione, una forza di volontà assolutamente epocali, nel senso che facevano parte del carattere degli imprenditori di quell'epoca. E proprio di forza di volontà tratta la citazione di oggi di James Gordon Bennett. È una citazione molto sofisticata, secondo me, perché ha un significato piuttosto sottile e lo trovo anche molto controintuitivo e tutte le cose che sono controintuitive in genere sono cose che cambiano la prospettiva, cioè sono cose importanti. Dice James Gordon Bennett sulla forza di volontà. Non è che alcuni abbiano forza di volontà e altri no. È che alcuni sono pronti a cambiare e altri no. Qual è la raffinatezza di questa citazione? È che sposta la forza di volontà da qualcosa che ha a che fare con la determinazione nel risultato, nel raggiungimento del risultato, o qualcosa che ha a che fare con la perseveranza, qualcosa che ha a che fare con la concentrazione. Insomma, qualcosa che ha a che fare con il lavoro nel momento in cui si svolge questo lavoro, sposta la prospettiva, sposta la direzione, invece, sul cambiamento. La forza di volontà come effetto della scelta di cambiamento. Quindi l'energia della volontà, dal punto di vista, diciamo così, tradizionale, è un'energia che si dirige verso un lavoro e che permette la realizzazione di quel lavoro. Da questa nuova prospettiva, invece, la forza di volontà è un'energia che è l'effetto dell'intenzione, quindi di un'altra energia, di cambiare, oppure no. Ed è molto interessante questo. Se ci pensiamo, la mancanza di forza di volontà, ed è su questo probabilmente che si focalizza James Gordon Bennett, non è la rinuncia a fare questo oggi. Non è mai questo in gioco quando si parla di forza di volontà nel suo senso profondo. Effettivamente è proprio vero che quando si parla di forza di volontà nel suo senso profondo, si intende la determinazione alla riuscita, cioè la determinazione a una trasformazione delle cose. Si parte da una situazione data, la si vuole modificare e attraverso la forza di volontà la si modifica. E questo non significa che tutti i giorni io devo dimostrare la manifestazione della mia forza di volontà su ogni lavoro che sto facendo. Posso anche essere privo di determinazione, di volontà, di energia, di volontà su alcune cose che sto facendo e che mi servono magari per realizzare il mio scopo, ma questo non toglie che io abbia la forza di volontà fondamentale, che è l'energia di base che mi permette di riuscire, ovvero l'intenzione del cambiamento. La forza di volontà deriva dall'intenzione di cambiamento ed è il motore dell'intenzione di cambiamento. Ecco che allora guardiamo la forza di volontà veramente da un nuovo punto di vista. Io non me lo sono mai domandato, da quando ho letto questa citazione me lo domando invece. Cioè la misura della forza di volontà come la misura della scelta di un cambiamento oppure no. Chi non ha forza di volontà non è perché è debole, è perché è forte, cioè non vuole cambiare, non vuole cambiare. È così determinato a non voler cambiare che non ha alcuna intenzione di usare l'energia che sta usando unicamente per resistere al cambiamento, non ha alcuna intenzione di lasciarla, di rendersi perciò debole in questo senso, al fine di poter cambiare e usare quindi la stessa energia in altro modo, in altra direzione, non più per resistere ma per avanzare, per trasformare. È interessante no? La mancanza della forza di volontà mostra non una debolezza a livello di struttura profonda, a livello conscio, ma una forza enorme, ma è una forza utilizzata unicamente nella direzione della resistenza, nella direzione ostinata e ostile a ogni cambiamento. Provate oggi a seguire il suggerimento nascosto nella frase di James Gordon Bennett e pensare a quanto tutte le volte che fate fatica ad affermare la vostra forza di volontà, in realtà siate sempre determinati al cambiamento. Per cercare di improvvisare una formula, se sotto la mancanza di volontà che manifestate per quello specifico lavoro, si trova comunque la intenzione di riuscita e la determinazione di riuscita, allora quella non è mancanza di forza di volontà, ma è mancanza di forza di volontà apparente, perché in realtà quello che conta è l'intenzione di riuscita. È quella sorgente che manifesta poi la forza di volontà e quindi anche se vi sembra di non avere forza di volontà per quel lavoro, in realtà avete inalterata la vostra forza di volontà. Se invece sotto la mancanza di forza di volontà per quello specifico lavoro si trova l'intenzione di non cambiare, ecco che qui abbiamo un problema. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie.